ciao ragazzi come va bentornati sul mio canale io sono riccardo di ultimate success formula e se non mi conosci la mia missione aiutare le persone con una professione tradizionale a generare ricchezza e libertà attraverso le epa entrate passive automatiche ricorrenti cioè denaro che è slegato dal tempo necessario per produrlo ti lascio qui sotto la possibilità di prenotare una consulenza orientativa gratuita per capire meglio su questo mondo e come muovere i primi passi e poi ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti contenuti legati alle criptovalute al mondo degli investimenti tradizionali investimenti il mondo della finanza decentralizzata strategie per fare soldi e tante cose belle faccio seguire e faccio seguito i primi due video della settimana nei quali ti avevo detto che sarebbe stata una settimana legata al mondo cripto e ti parlo della pepita quindi della moneta della cripto più interessante con più potenziale per il mese di maggio 2022 parliamo di altura quindi siamo nel sito coin market cap che è il portale di riferimento per l'analisi del mondo cripto e altura la puoi cercare andando qui e scrivendo altura oppure alu che è il ticker l'abbreviazione di questo token allora altura andando qui scopriamo di cosa si tratta è fondamentalmente un progetto molto 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 interessante che diciamo va a cavalcare uno dei trend più potenti del momento ma soprattutto dei mesi a venire che è quello del gaming e degli nft ok quindi scorrendo qui possiamo vedere tutte quelle che sono le informazioni principali notiamo un aspetto molto interessante che poi andremo a vedere che è il market cap che è molto molto basso per quale motivo vogliamo un market cap basso perché più è basso il market cap maggiore è la potenzialità di crescita e di quindi fare un 10 20 30 50 100 per con questa moneta quindi ti consiglio di fare le tue ricerche andare sul sito alturanft.com per scoprire di più abbiamo anche la roadmap quindi dopo il team abbiamo la roadmap in questo momento in cui stiamo registrando il video ci troviamo nel q2 quindi nel secondo trimestre del 2022 all'interno del quale a breve verranno rilasciate tutte queste novità motivo per il quale soprattutto per il fatto che usciranno dieci giochi che utilizzeranno la moneta di altura motivo per il quale appunto utilizzando la moneta il prezzo è destinato nei prossimi mesi compatibilmente alla crescita di mercato a esplodere letteralmente quindi tornando qui sul nostro coin market cap vediamo che in questo momento la moneta ha un market cap di poco più di 32 milioni che un market cap molto molto basso vediamo che abbiamo già un buon 62 per cento di moneta già in circolazione che questo è un altro aspetto interessante e altro aspetto molto interessante poi alla fine di questo video ti lascio anche un un estratto di una lezione privata tenuta con i miei studenti privati con quelli che io chiamo il super hero la nostra community super hero dove analizzo questo e altri progetti ti faccio capire come ragiono e come prendo e come scelgo i progetti che poi mi permettono di fare un sacco di soldi vediamo che in questo momento siamo a un prezzo di 5 centesimi che è un prezzo distante rispetto al prezzo più alto raggiunto quello che viene definito oltre mai raggiunto a novembre a un prezzo che era quasi dieci volte in meno il prezzo attuale a 44 centesimi quindi io mi aspetto quando il mercato riparte che perlomeno come minimo dobbiamo e possiamo concretamente raggiungere se non superare i 44 centesimi quindi sarebbe una crescita di quasi dieci volte tanto significa che mettendo 500 potrei fare 5000 a stretto giro ma in realtà il potenziale è molto molto più alto considerando che ad oggi altura non è listato in nessuno degli exchange principali e di solito il listing di uno degli exchange principali un catalizzatore per l'aumento di prezzo e considerando quello che è la bontà del progetto ti consiglio di copiare direttamente il contratto del dello smart contract su rete bnb e comprarlo direttamente su pancake swap ok quindi questo è quanto video molto molto breve altura pepita di maggio vai su coin market cap e da qui vatti a vedere il sito per scoprirmi di più fai ovviamente le tue dovute analisi ma rispetto a quello che è la mia esperienza nel settore su come fare soldi non solo nel mondo cripto e di fai ma in generale fare soldi nel mondo degli investimenti e dei pari investimenti ti consiglio questa moneta e ti consiglio se vuoi saperne di più di guardarti il video che verrà adesso fuori o a sinistro a destra dello schermo sul sull'analisi del mercato cripto un video molto molto interessante e ti consiglio di prenotare la tua chiamata orientativa gratuita per muovere i primi passi all'interno di questo mondo ci vediamo presto e se ti è piaciuto il video metti un like e segue il canale a presto ciao